I lavori per il montaggio della ruota panoramica stanno procedendo qui a largo Aldomoro a Pesaro, ma i cittadini che cosa ne pensano di questa seconda attrazione della città? Noi abbiamo chiesto alcuni pareri. Mi piace, non è che mi piace, è un'attrazione come un'altra, non cambia niente per me insomma. Come cittadino, beh io non sono d'accordo che questa sia stata messa in queste condizioni, in questo posto qui, solo quello, nient'altro. Però come dire, abbiamo il nostro bravo sindaco che ha sensibilità verso la cittadinanza. È sempre attrattiva per quanto sia, è sempre diciamo come una novità per Pesaro. Chiedere alcuni pareri sulla ruota, cosa ne pensate, vi piace? Ma io stavamo proprio dicendo che secondo me è una cosa non opportuna, insomma non ha senso. Perché secondo lei non ha senso? Non ha senso perché andare a disturbare il traffico in questo posto qua, sotto le feste, una cosa o l'altra, non ha molto senso. Ecco, questo penso io. Poi se il sindaco Ricci ha piacere di farlo, lo faccia. Secondo lei signora? Sono d'accordo. La location secondo me non è adatta. Ristringe molto la strada, il passaggio delle auto. Poi sotto questo periodo siamo vicino alle vacanze di Natale. Insomma. E secondo lei qual è la location più opportuna? Ma secondo me andava installata in un altro luogo, non so, a Baia Flaminia. Non lo so, io non sono molto favorevole. Perché trasformare la città in un Luna Park, le casette, pista del ghiaccio, torre panoramica, non sono d'accordo. Va bene per i ragazzi, per i giovani. Sì, a me piace molto, soprattutto nel periodo natalizio, credo che attiri un sacco di famiglie, è carina per i bambini, quindi molto bene. Positivo giusto? Positivo. Sempre purtroppo legata a questioni di traffico, quindi ci saranno delle lamentele sul blocco del traffico. Se fosse in centro forse bloccherebbe meno. Ancora non l'ho vista. Attualmente quella che vedi in giro è tutta un'altra roba, questa sarà la montatura. Questa. Ma tanto qui la devono fare piccola, il posto è c'è, io non so neanche come... Non va bene il posto? No, secondo me non. Secondo lei dove era meglio ubicarla? Giù al mare, non dico in piazza che hanno fatto la pista di pattinaggio, ma insomma... In conti, là giù al mare almeno si vedeva, no? Non ha veduto tutto. Grazie. Grazie.